Inaugurata nei viali dell'orto botanico, la sesta edizione di Planta, Il Giardino e Non Solo, la grande mostra mercato dedicata al florovivaismo di qualità. Piante e fiori di stagione, sementi esclusive, rarità botaniche ed essenze esotiche, prodotti dell'orto e del frutteto, ma anche incontri tematici, presentazioni di libri e laboratori didattici. L'iniziativa, aperta al pubblico fino a domenica 6 maggio ad ingresso gratuito, è un appuntamento molto atteso anche per conoscere nel dettaglio le novità del Verdi Ornamentale e le più diffuse tecniche di giardinaggio. Spettacoli musicali ed artistici accompagneranno l'intera manifestazione. Bellissimo, un programma davvero fitto, ricco, complimenti, molto variegato, che comincia oggi fino a domenica, in questo posto straordinario che è l'orto botanico, che mette insieme varie istituzioni, la direzione dell'orto botanico, il personale, l'università Federico II, il comune, altri enti, ma soprattutto gli espositori. E quindi è un'occasione straordinaria anche di far conoscere questo luogo e queste bellezze a chi ancora non ha avuto la possibilità di farlo.